Al Quirinale ci furono lunghe conversazioni, scontri, completamente inutili perché non arrivavano a decidere l'ora, è il momento di dichiarare ufficialmente questo armistizio. Taylor stava lì inviato appunto perché doveva fare immediatamente dopo ordinare questo avio lancio con lo sbarco ad Ostia. Alle ore 16 lì presente già è Taylor, che era in comunicazione diretta con Eisenhower. Vi comunica che la sua presenza al Quirinale era del tutto inutile in quanto ormai il comandante italiano della piazza di Roma, il generale Carbone, dichiarava apodeticamente di non essere in condizioni di poter assolvere al mandato di tenere libero un corridoio di 20 km da Ostia a Roma, libero dai tedeschi, i quali erano inconsapevoli. Però questo territorio per permettere l'effettuazione di quest'operazione, la Grand Tour, c'era anche la dignità del nome, per questo che dichiarando che lui ormai era in un esempio, in quanto questo non sarebbe accaduto, Eisenhower gli ordinò di tornare in sete. Mi fu preparato un apparecchio della regge aeronautica, per carità, non è che fu lasciato in giro per Trastevere. Questo è alle ore 16. Alle ore 17 da Radio Algeri viene comunicato personalmente da Eisenhower l'avvenuto armistizio con l'Italia. Immaginate quello che successe al Quirinale, tra tutte queste genti che irresponsabilmente, seppur nel panico di quello che stavano provocando, dovessero decidersi ad una provincia, una pronuncia pressoché immediata. Allora tacquero le discussioni, si placarono per poter confezionare una dichiarazione che sarebbe stata letta dallo stesso Badoglio all'Eiar, che era la radio di Stato. Ebbene, intorno alle ore 19, forse era un po' prima, la radio italiana comunicava che era stato sottoscritto un armistizio con le forze armate alleate e basta. Questo fu il comunicato ufficiale dettato, anzi letto, letto alla radio, in maniera che il mondo, finalmente il mondo tra cui gli alleati furono sicuri che ci fosse appunto la fissazione, ma aver fissato il momento naturalmente, permetteva agli alleati di fare qualche variazione, non tanto sull'operazione avalange, ma su quest'operazione che sarebbe stata determinante anche per gli italiani, affinché si, collaborando, avete firmato un armistizio, avete una grande armata, questi vi portano direttamente a Roma le truppe alleate con cui avete concordato questa sospensione della guerra. Questo avrebbe evitato tutto quello che è accaduto dopo l'8 settembre in poi, in quanto il re sarebbe rimasto nella propria posizione, avrebbe affrontato con la sua potente armata i tedeschi aiutato all'invasione, in quanto il re, una volta firmato questa resa, doveva garantire una continuità di governo e militare. Questo è un momento molto importante da avere presente. Grazie. 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 Grazie.